Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Adasei e benvenuti in questo nuovo video di HG, siamo ad Alessio e siamo ad Emra, siamo nel 96! Alessio, Alessio, ma chi l'ha invitato questo qua? Chi l'ha fatto entrare? Chi? Chi è stato? Chi è stato? Andiamo fuori! Vai, siamo nel 96! Ce la faremo, e ne sono no, 96! Vai, i tuod di ragazzi, te lo vado a viaje! Vedi, belli... Guarda questo ti ho scritto in chat. Ma ha fatto come tutti voi siete! Uhhh, una mira! Ho una mira! Ho una mira! attraverso ma non è un progetto ma non so dove se non lo so da una parola albergo che sito vedo a roma giocchi e non so come fatto male albergo le mani a giù animo bilancio che vedrà l'idea cittadini a prendere nn 8 8 o il lage of fumage porto fumage andiamo andiamo mario romana da mangiare quattro i miei ammali bello c'è la città maradino o oh bravo di rialde una parola ma che trova la fortuna quindi non la prendo o anche non mi spinta sopra mi spinta ti vuoi una spinta cosa androli andro a trovare una tua spada io ho trovato un sacco di non è vero oppure se guarda di più guarda verso l'alto disse arno l'uomo che poteva saltare i palazzi se ad aprile se ne è già sto giusto se ti faccio una capriola se mi guardi c'è una mazza la meglio armatura perso comune che ti chiede l'uomo vedo qualcuno quattro pezzi con te la tua mamma vediamo il giorno oggi è quattro secote non ti vedo e andare a andare verso l'alto attenzione ci sta la musichetta guarda chips io mi tia chi è gua c a s droga ma vedete secondo me queste giù e so ma non è giusto vedete che è un complotto perchè io sono morto il drop si è diviso a piramide non l'hai visto guarda lì emmerald emmerald guarda chi stanno seguendo guarda che bello c'è l'aulizza 96 ahi emmerald emmerald non si racconta voi due io ho dato una bella ender per l'aulizza allora aspetta tanto non li prendi tanto li sei morto per continuare a correre perchè sei stupido è ma sto correndo scusami in tanti sei fermato erate capito non ho capito capito cosa baghie qua max 8 ttc ctc buona a casa emmerald 2 ita arda what the fuck attento che sono in due ti posso vincolare con la salva sabbia di fosso ecco la città l'ho ucciso odia maria 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 di posto perché è bravissima anche un diamante non è giusto un complotto no non c'è il mio mondo il rai mar andatello sticca a vedere la islamo sticca la gialla di acqua l'opera di sanus guarda che è una trappola non avevano sticca spada ulisse che vai no è la tua sinistra corre dritto dove c'è il cactus avevano sticca strontro allora dove lo trovo ed è che il nostro temore che mar ti vengo a prendere bello ti vengo a prendere ma no c'è un altro pizzo marchi ora sticca è la stica nadeva e lo sport dato le tre chiudizia danno mi serve le frecce si era nella delle cose quindi a tra l'altro non te l'ha neanche sponsorizzato come non ti dà le frecce anna amnostic o cura con la sua volta dammi amnostic che la ciotola lo sticca la ciotola la ciotola e' nella data della ciotola andati sono attimo le ceste e' chiaro e' suggerimenti dati città di una spada anna di quattro ecco ma due poi altro suggerimento pratico con una barca potete fare una spada di legno asima ci interessa fare altro momento il mare elemento per chi aveva una ciotola un'altra ciotola attento e' che c'è uno in mezzo al battello e' ulisse guarda c'è quello emerald emerald metti la barca vai non c'è una barca difficile la metto io vai ullisse scappa dalla morte io rompo la barca e' inspecting che bastardo che sono corri ullisse lag lag ma che c'è questo spingi ullisse emerald potevi spingere tutto si e' bloccato tutto si e' bloccato da fuck sei una merda sei una merda davvero è tutto guarda guarda ma lo puoi fare io non sto andando lì se ciò si è spacciato lo sai ciao ullisse ciao ullisse ciao piccolo angelo oh merda siete delle merda siete delle merda aiutatemi aiutatemi ma io cosa devo fare io sto inspecting se vuoi gli tiro pugni però non gli faccio niente emerald dammi la mano emerald mi sono messo in mezzo a una freccia ve l'ho anche parata ringraziatemi almeno scapolize scappa non guardare dietro corri come se non ci fosse un domani non c'è un domani e quali il problema appunto corri emerald corri piccolo emerald la vita potrebbe essere dura con te ma tu muori comunque il destino sarà duro oddio ma sono volato il destino di emerald era duro ma non quando il suo bene emerald emerald girati girati emerald col cazzo emerald girati piccolo emerald sei stupido ma sei stupido emerald è una merda sei una merda fattelo dire ciao a tutti ragazzi emerald sei no si è mangiato la mella figli di buttana non mi prendi non mi prendi figli di buttana non mi prendi dai uccidilo 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 ha la mela potresti vedere la tua vita attento attento la tua vita è bella non è vero non è lento si poco con knockback questo oh non mi fermi a mettere la chilaura non mi fermi a mettere la chilaura eh che cosa chilaura molilla molilla che non sobra molilla guarda l'hgiccio muore che si è run perchè ti è risparata al vuoto spiegamola questa oh dai oh asciuga ahahahah addietro arriva il terzo arriva Pansrico addietro dietro è malattina oddio oddio c'è il diamante lo stronto c'aveva questo si vabbè ok ragazzi se non ne passiamo l'hg porco dio ok